Se dico pace, il nostro gioco che facciamo con i ragazzi, la prima cosa che ti viene in mente? Beh, sport, perché questa è la nostra esperienza. In quasi 20 anni di lavoro, devo dire, abbiamo verificato che lo sport, il calcio in particolar modo, che secondo me è uno sport più democratico che esista, riesce a ottenere per l'integrazione e per la pace dei risultati che neanche noi ci saremmo mai aspettati, soprattutto in certe realtà, ha una forza di impatto sui ragazzi, noi lavoriamo con i bambini dai 6 fino ai 13 anni, bambini e bambine, ha una forza straordinaria di integrazione, nel momento in cui giocano poi tutti con la stessa maglia, a calcio, nello sport, c'è veramente la possibilità di dimenticarsi delle divisioni e di fare praticamente pace sul campo. Raconterai ai ragazzi qualche aneddoto? Spero di avere il tempo, perché in realtà di aneddoti in 20 anni ne ho raccolti tantissimi, però appunto il tempo sarà quello che sarà, vorrei però prima dare l'idea vera del lavoro che ci sta dietro, che è un lavoro molto sodo, appunto ventennale di Intercampus, con appunto mille e mille esempi di realtà, di casi, di successi, si chiamano i successful cases, ma per me hanno la faccia dei bambini, cioè al di là della parola si tratta veramente di situazioni in cui abbiamo fatto la differenza. Raccontacene uno, quello che ti sta più a cuore forse in questa lunga esperienza che hai. Quello che mi sta più a cuore ce ne è tanti, però ne pensavo uno venendo stamattina, che non so se farà in tempo a raccontare, allora ne approfitto. Quando siamo stati a Sarajevo nel 99, la guerra era finita da poco, e c'era un bambino dei nostri che era diventato un bambino, ormai era un ragazzino, e mi ricordo c'era un giornalista che gli chiedeva in uno di questi anni di guerra che cosa si ricordava. E lui diceva, ma di quell'anno io cosa mi ricordo? Beh, che abbiamo giocato contro lo Gillesnitzar, e il giornalista dice, ma non ti ricordo nient'altro? Come faccio a dimenticarmi? L'ho segnato un gol. E questa cosa, io ero appena arrivato nel progetto, mi sono reso conto, dico, porca misera, questo bambino si è dimenticato di un anno di guerra ricordandosi della partita a calcio e del gol che ha segnato. È stata la prima situazione in cui mi sono reso conto della forza, dell'impatto che ha un progetto come il nostro, può avere per risolvere certe cose. Senza fare miracoli, per carità, perché non è che possiamo dire, ci sono tante situazioni difficili, però veramente si riescono a fare delle cose molto belle. Chiusura sui numeri, Intercampus, realtà, che copre? Copre 29 paesi e 10.000 bambini in giro per il mondo, da 20 anni, quindi... Quando abbiamo cominciato dicevo che siamo una goccia in mezzo al mare. Adesso devo dire che siamo almeno una barchetta, perché 10.000 bambini all'anno per 20 anni, mi hanno fatto un po' i conti, più tutti quelli che... gli allenatori, le famiglie, quindi devo dire un pochino di... possiamo essere contenti veramente di quello che abbiamo fatto. I legami restano poi? I legami restano perché noi dove partiamo non finiamo mai. Cioè l'ottica è quella che quando comincia un progetto non si chiude. Parlavo prima di Sarajevo, Sarajevo ormai la guerra non c'è da 20 anni, però il muro è nella testa della gente. Non c'è più un muro, diciamo, fatto da mattoni o da fucili, ma è nella testa della gente. E quindi è importante rimanere, anche quando i riflettori si sono spenti, per continuare a costruire delle strategie di pace attraverso lo sport.